Il secondo finito, Powell, Zolli, Blau, Petros, Peppe Amaesica, accanto per te, una macchina che ha completato la bomba di sinistra, entra ora nella retta delle tribune, 100 metri al punto dello stacco. Lascio fin a questo istante. Il secondo finito, Picasso in vantaggio con 238 e quarto iniziale coperto in 28 e mezzo. A centro di stanza risalita di Pette Amaesica, Picasso in vantaggio, Traffè, Pette Ehi, Poi, Powell, Giolli, Terza risale, Paolo, Zolli, Prezzo, Spanieri, Prezzo, Spanieri, Superi 2600 metri, Paolo, Zolli, Siete guadagna posizione all'arico. Scusate, Peppia Maestra che può dare posizione all'arco del Cavalca, Paolo de Lucia. Intanto Picasso Sama approda gli 800 in un minuto. Peppia Maestra ridosso, ricorda 7.30 all'arco Paolo de Lucia. Poco della curva conclusiva. L'attacco di Peppia Maestra a 2.50 dal termine. Peppia Maestra a Pariglia Picasso. Prova ad intervenire più a un largo Petros. Peppia Maestra che sta passando. Peppia Maestra in seguito da Petros. Gran finale di Palau. Peppia Maestra in finale di Palau. E sul palo. Palau. Grazie a tutti. Grazie a tutti.